salve ragazzi allora questo è un secondo video di ringraziamenti verso i miei iscritti perché vedo che cominciano a crescere di giorno in giorno e la cosa non mi fa che piacere io mi immagino che questi iscritti siano per più per gli spezzoni di film che che ho messo i film comici italiani ma anche non però soprattutto di film comici all'italiana e per il momento ho dovuto ho dovuto stoppare questa cosa perché ho avuto un po di reclami sulle copyright e quindi ho dovuto stoppare tornerò a metterli come uso un'applicazione che si paga ma se non lo paghi ti lascia la scritta quindi dovrete sopportare la scritta la scritta sotto e magari anche scaricare con l'applicazione potete fare anche voi dei video nulla io già mi aspetta per me come ho fatto nel primo video penso siano stati 17 iscritti non so all'epoca e che già a me mi apparevano tanti perché ero sicuro di non essere cagato da nessuno ero sicuro di non avere scritti se non qualche amico così giusto per farmi piacere invece ora in questi video io sono arrivato 117 170 mi ricordo insomma cosa che a me la mia apparenza sono tantissimi quindi vi ringrazio di cuore spero aumenteranno ma a me io vi vedo già tanti così nulla grazie di cuore ci rivediamo ciao Grazie.